La politica deve sapere ascoltare le proposte che arrivano dal mondo imprenditoriale, dal mondo accademico, dal mondo dell'economia ed è quello che stiamo facendo anche oggi qui a Palermo. Analisi, riflessioni e proposte per una regione che si muove fra luci e ombre con carenze strutturali e carenze congiunturali. Io credo che il male della nostra isola stia nella carenza strutturale che è un male che si porta dietro da circa 60-70 anni e sopperire a questa carenza significa richiamare Roma e Bruxelles, ognuno alle proprie responsabilità. E' quello che stiamo facendo in questi anni, qualche volta con un interlocutore distratto, qualche altra volta con risultati significativi. Però la Sicilia cresce, cresce nel settore dell'agro food, cresce nel settore delle costruzioni. Abbiamo finalmente ottenuto la copertura finanziaria per centinaia di milioni di euro delle infrastrutture idriche, segno evidente che qualcosa, grazie al nostro governo, si muove in una terra che abbiamo trovato assolutamente rassegnata e priva di motivazione.